Ragazzi, buongiorno. Questo è il primo di una serie di video in cui affronteremo i cosiddetti dialoghi della vecchiaia. Questi dialoghi sono il Teteto, il Parmenide e il Sofista e il Timeo. I primi tre sono dialoghi impegnati ad affrontare ad un livello teoreticamente più articolato rispetto a quelli precedenti i problemi che la teoria delle idee pone rispetto alle più importanti tradizioni filosofiche, mentre il Timeo è un dialogo sulla cosmologia, cioè sull'origine dell'universo e del mondo. Il primo dialogo che affrontiamo è il Teteto, in cui Platone si confronta con la gnoseologia sensistica, cioè quella gnoseologia che si basa sulla conoscenza sensibile e per cui ogni forma di conoscenza deriva dalla sensazione. Essa costituisce il presupposto della tesi di Protagora, secondo cui la soggettività della sensazione fa sì che la verità sia quella che ciascuno di noi percepisce come tale. Io posso giudicare un'arancia dolcissima perché non sono abituata a mangiare dolce, un altro che mangia dolce invece la giudicherà aspra. L'importanza del confronto sta nel fatto che la gnoseologia sensistica è antitetica alla teoria delle idee. Nel Teteto Platone deve dunque stabilire se sia possibile costruire una scienza basata sulle sensazioni. Egli articola questo problema in tre momenti, corrispondenti a tre successivi interrogativi fra loro connessi. Se la scienza sia sensazione, se la scienza sia opinione vera, se la scienza sia opinione vera accompagnata da una spiegazione. Ecco quindi, rispetto al primo problema, cioè se la scienza sia sensazione, la risposta di Platone è che la sensazione non può essere scienza, perché se è vero che gli uomini percepiscono le qualità delle cose attraverso gli organi di senso, non è però attraverso questi organi che essi giudicano di queste sensazioni. Nessun organo di senso permette di stabilire se una sensazione è simile a un'altra o non lo è, oppure se le cose sentite sono una, sono molte o quante sono. Si deve quindi ammettere che esiste una capacità di pensare ciò che la sensazione offre. Questa capacità è propria dell'anima. È l'anima dunque che ha delle opinioni sugli oggetti che coglie per mezzo dei sensi. Per quanto riguarda la seconda ipotesi, cioè che la scienza sia opinione vera, secondo Platone la scienza non può coincidere con essa. Platone elabora un ragionamento molto articolato, giungendo alla seguente conclusione. Poiché chiunque ritiene vere le proprie opinioni serve un fondamento esterno, che non sia esso stesso un'opinione, per giudicare della verità o della falsità di ciascuna di esse. A conferma del fatto che scienza ed opinione sono cose diverse è anche il fatto che è possibile avere un'opinione vera del tutto casualmente, senza argomenti o prove. Nel suo ragionamento, Platone chiama in causa, in polemica col relativismo protagoreo, i grandi rettori, i quali sono capaci di convincere il pubblico di ciò che vogliono, anche di falsità. Infine, per quanto riguarda la terza ipotesi, cioè che la scienza sia opinione vera accompagnata da spiegazione, Platone sostiene che la scienza non può coincidere con un'opinione vera accompagnata da spiegazione. Spiegare, infatti, significa definire, in particolare definire in che cosa qualcosa si differenzia da qualcos'altro. Ma anche avere scienza di qualcosa significa che il concetto di spiegazione presuppone implicitamente quello di scienza e dunque non è lecito ad operarlo per definire la scienza stessa. Quindi, verificata l'impossibilità di identificare la scienza con la sensazione o con l'opinione, Platone giunge alla conclusione che per costruire una conoscenza solida è necessario affidarsi all'attività dell'anima. Quindi, nel teteto non abbiamo, non troviamo una definizione precisa di verità, ma il vero è definito indirettamente, cioè è definito in rapporto e per opposizione a ciò che è falso. Quindi, secondo quest'ipotesi, l'errore delle opinioni false starebbe nella coordinazione degli elementi e nei limiti della memoria umana. Nel teteto sono contenute le due celeberrime definizioni di memoria che Platone dà. La memoria può essere paragonata a una tavoletta di cera divisa in tre zone. Nella prima vengono impresse quelle immagini che sono indelebili, cioè che sono incancellabili. Pensate alla memoria a lungo termine. Nella seconda zona vengono impresse quelle immagini a medio termine. Memoria a medio termine. Nella terza, che è a breve termine, le immagini si sovrappongono e questa sovrapposizione di immagini può far nascere memorie false. Altro celeberrimo paragone della memoria è quello della vogliera. Platone appunto utilizza questa metafora in cui la nostra mente è una vogliera in cui si muovono uccelli di colori differenti. Noi, se infiliamo una mano dentro la gabbia e non sappiamo quale uccello scegliere, in questa maniera facciamo nascere l'errore. Cioè, per fare un esempio, se io volevo prendere un colibri, ma non so come è fatto un colibri, magari prendo un pappagalino, in questa maniera appunto la mia memoria fa nascere quello che viene chiamato errore.